Sì, intervengo solo per dire che mi dispiace che si sia generato questo clima insomma perché se si facesse uno sforzo e si guardasse ai contenuti al di là di chi li ha presentati potremmo fare tutti un passo avanti. Questa delibera porterà grandi risultati ma l'ho ripetuto varie volte, ci sono grandi aspettative della cittadinanza verso il Comune di Roma che non è l'unico interlocutore. Quello che ha detto il Consigliere Corsetti in parte è vero, lui ha presentato una delibera che modificava la città storica, quindi non sono nove anni ma diciamo che il PD dopo otto anni ha presentato una proposta qui in aula dopo che forse l'ha riproposta e non era passata neanche nella consigliatura precedente. Il contributo l'abbiamo detto quando abbiamo discusso la delibera del Consigliere Corsetti per questa aula non è risultato completo né accettabile perché comunque non si può vietare il commercio su tutta Roma arrivando anche al di fuori delle zone della città storica in maniera scomposta e senza date di riscontro. Peraltro il risultato anche apprezzabile da alcune associazioni o consiglieri che vanno a aggregare questi dati non è un valore ufficiale. Quando l'amministrazione deve porre dei veti forti lo deve fare a fronte di dati ufficiali. Quindi seppure esistessero e probabilmente ne esistono zone della città, magari a macchia di lopardo, magari estese quartieri della città che hanno superato questi limiti, prima si dovrebbe fare uno studio e poi si dovrebbe procedere alla eventuale inclusione in questo divieto chiedendo l'apertura solo di attività tutelate. Qui è come funzionano le cose, non è una dichiarazione di intenti, questo è un regolamento vincolante e va a impattare sulle attività produttive, non c'è un solo soggetto. Noi abbiamo a cuore le associazioni di cittadini anche se forse non c'è il viceversa, però abbiamo a cuore anche le attività produttive perché siamo la commissione commercio e attività produttive, non possiamo far chiudere qualsiasi tipo di attività o imporre che aprano solo negozi storici nella città storica perché questo banalmente verrebbe impugnato il giorno dopo e qualunque sforzo verrebbe reso vano. Non so se questo è chiaro. Io auspico che nel proseguo della discussione si parli di contenuti come ad esempio degli ordini del giorno che abbiamo presentato. C'è un ordine del giorno che chiede che si facciano questi studi anche in altre zone della città che si vadano a valutare gli indici di saturazione, ma non possiamo metterlo oggi nel regolamento. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno. Grazie.